ciao ragazzi sto per andare in albania e adesso mi preparo adesso andiamo a mangiarsi qualcosa prima della partenza questo è lo stile perfetto per andare a prendere un aereo a mezzanotte controlli come sempre superati guardate che bella macchinetta che ho preso arrivati a casa alle 3 e mezza di notte buongiorno dall'albania sono le 9 e mezza e ho dormito 6 ore niente c'è la prima e ho dormito 2 ore 3 ore adesso vado a salutare un po' di zii e dopo penso che vado a lucida a tagliarmi i capelli cosa molto tipica albanese che i vecchi la sera anche la mattina si sa portarle fuori a 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 i Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il video finisce qui E noi ci vediamo come sempre al prossimo video